Grazie Presidente, grazie alla regolatrice per il lavoro svolto. La proposta di revisione della direttiva in oggetto è molto importante, soprattutto se si tiene conto del fatto che il 75% del parco immobiliare dell'Unione è inefficiente dal punto di vista energetico. E adesso è attribuibile bene il 40% dei consumi energetici finali, comeppure il 36% delle emissioni di gas a effetto serra. Il tasso attuale, annuale di rinnovamento degli edifici è insignificante sotto l'1%, quindi c'è un'urgenza. Servono quindi delle strategie condivise a lungo termine da parte degli Stati membri, incluse nei piani nazionali in materia di clima ed energia, per incoraggiare le ristrutturazioni e per accelerarle, se vogliamo raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica. Ciò richiede una migliore regolamentazione. Migliore non significa necessariamente una maggiore. Una migliore regolamentazione, una semplificazione delle norme per contenere gli oneri amministrativi. Servono degli incentivi, certo, degli incentivi efficaci e meno frammentati per le ristrutturazioni. Oggi abbiamo una frammentazione eccessiva e per i privati spesso è molto difficile capire come accedere agli incentivi, anche a causa di una legislazione diversa fra gli Stati. La sfida che abbiamo di fronte è quindi trovare il giusto equilibrio fra i vincoli e gli obblighi comunitari e le necessarie flessibilità nazionali. Inoltre, gli investimenti in materia di efficienza energetica dovrebbero essere esclusi dal patto di stabilità. In merito agli strumenti degli attestati di efficienza energetica, molti Stati membri hanno evidenziato distorsioni nel loro utilizzo. Servono degli strumenti di applicazione e soprattutto di controllo più efficaci, prendendo ad esempio le buone pratiche che alcune regioni europee hanno già sviluppato, ad esempio i controlli a campione. Condivido poi pienamente gli emendamenti che la Relatrice ha presentato sulla necessità di garantire la salubrità degli edifici. Viviamo la maggior parte del nostro tempo chiusi all'interno delle nostre case o nei luoghi di lavoro. Devono essere ambienti sicuri e sani. Vi è inoltre uno stretto legame fra le abitazioni efficienti dal punto di vista energetico e la povertà energetica. 50 milioni di cittadini nella nostra Unione Europea non riescono a pagare le bollette. Serve una strategia comune di contrasto, che parta da una definizione condivisa. Che cosa intendiamo? Che cosa si intende per povertà energetica? Una definizione più chiara. Serve una raccolta dati più precisa sulla diffusione del fenomeno. E soprattutto servono una serie di azioni concrete per contrastarlo. Su questo punto mi riservo di presentare alcuni emendamenti. Mi rallegro del fatto che la proposta della Commissione si proponga di incoraggiare, così come veniva ricordato, la diffusione delle infrastrutture necessarie all'elettromobilità e dunque di incoraggiare il trasporto elettrico su gomma. C'è un confronto aperto che abbiamo iniziato anche oggi. Discutiamo, confrontiamoci su quali siano le migliori modalità dal punto di vista tecnico per predisporre gli edifici all'elettromobilità, punto di ricarica, precablaggio, canalizzazioni. Discutiamo, discutiamo alla luce sia delle rapide e prevedibili innovazioni tecnologiche del settore e sia naturalmente dei costi degli interventi. Riflettiamo anche sulla data di entrati in vigore delle disposizioni, ad ora 2025. Anche su questo punto mi riservo di presentare alcuni emendamenti. Questo processo, ho finito, di adeguamento non può non riguardare naturalmente anche gli edifici pubblici e i parcheggi pubblici gestiti da enti privati. Il pubblico deve fare la sua parte e deve dare l'esempio. Infine, è fondamentale un'azione di informazione, come veniva ricordato, ed educazione dei consumatori sugli strumenti finanziari che l'Unione Europea e gli Stati membri mettono a disposizione per la ristrutturazione, oltre che alla formazione permanente dei professionisti che operano tutti i giorni a stretto contatto con gli utenti. Ciascuno di noi deve essere messo in condizioni di conoscere quali azioni concrete possa intraprendere nella vita quotidiana, all'interno della propria abitazione, del proprio ufficio, del proprio negozio, dello studio professionale o dell'officina, per ottenere un risparmio energetico. Sono sicuro che su questi punti riusciremo ad elaborare dei buoni compromessi.